Si conclude oggi il Tremiti Music Festival con Nada di Rotta su Cuba, Malika Ian e Susanna Stivali. La settima edizione del festival, promosso da Regione Puglia con Puglia Promozione, Teatro Pubblico Pugliese in collaborazione con il Comune delle Isole Tremiti e il coordinamento artistico di Roberto Ottaviano, ha proposto quattro voci femminili per celebrare ancora una volta il connubio tra musica e natura nello scenario incontaminato delle Isole Tremiti. Il concerto di Nada Duo con Andrea Mucciarelli alla chitarra, un live intenso nel quale Nada è stata accompagnata dal talentuoso chitarrista della scuola Jazz Blues Senese, poi di Rotta su Cuba che celebrano i 30 anni dall'uscita del primo brano Gelosia. Da allora la band tra mille vicissitudini, reunion, separazioni e cambi di line-up è ancora in attività e l'unica vera costante Simona Bencini, voce ed anima del gruppo. Oggi, sempre in Piazza Pertini, all'isola di San Domino, la chiusura del festival ha affidata a Malika Ayan, la cantatrice milanese che con la sua inconfondibile voce ha vinto numerosi riconoscimenti.